Il rendiconto generale della Regione Toscana per il 2023 è stato approvato dal Consiglio con 24 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 13 contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Il risultato amministrativo dell'esercizio 2023 ha chiuso con un saldo finanziario positivo di 977 milioni e 899 mila euro in aumento rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda il rapporto tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi, in termini di competenza si è passati da 16 milioni e 242 mila della previsione iniziale a circa 20 milioni e 200 mila degli stanziamenti definitivi, con una variazione di quasi 4 milioni di euro. Il bilancio della Regione Toscana, lo dice anche la Corte dei Conti, è un bilancio solido, un bilancio che nel tempo è migliorato. Certo, evidentemente, se avessimo avuto quelle che erano le decisioni della consulta relativamente al payback, avendo potuto fare prima della parifica quello che abbiamo fatto nel rendiconto e nel successivo assestamento, e che faremo la variazione di bilancio, il nostro bilancio sarebbe ancora più solido. C'è un tema però di fondo che riguarda i servizi che noi offriamo alle persone, in particolare i servizi di sanità di prossimità. Noi abbiamo bisogno che oltre alle risorse che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per realizzare le case di comunità, ci siano risorse aggiuntive per poter dare risposte al personale medico, infermieristico, sanitario. Noi abbiamo bisogno di avere più personale per dare servizi e risposte migliori ai cittadini. Noi siamo orgogliosi della nostra sanità. Sappiamo però che possiamo migliorare sulle questioni che riguardano le liste d'attesa e riguardano gli accessi al pronto soccorso, però per farlo serve che quella norma che noi abbiamo approvato, con cui si chiede che il 7,5% del finanziamento sanitario, il fondo sanitario regionale, preveda che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo venga dato alla sanità pubblica. E questa è la sfida che abbiamo davanti. Io mi auguro che il governo voglia coglierla. Non è un tema di battaglia politica in gioco, ma o finanziamo di più la sanità pubblica oppure rischiamo di togliere servizi ai cittadini. Ma io sono molto orgoglioso perché il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024 e 9 anni a ridurre il nostro disavanzo da 3,5 miliardi a 1,2 miliardi. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era. E contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo, in realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470. E contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della Regione Toscana che ci fa essere orgogliosi. Intanto partiamo col dire che l'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del miliardo, 977 milioni. Quindi questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un tender altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni, dal 2015, che riduce sensibilmente lo sbilancio. Uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto perché c'è un'inversione di tendenza. Si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture, a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità. Significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori. E questo è il compito della Regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi. Quindi, ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi. Solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma di investimenti in sanità questa Regione ne ha fatto. Abbiamo fatto molti, moltissimi, in questi ultimi anni gli interventi sugli ospedali, sul rafforzamento della sanità territoriale, su apparecchiature e strumentazioni di avanguardia per garantire proprio quei LEA, quei livelli essenziali di assistenza che vedono la Regione sul podio delle migliori regioni italiane. Quindi, con questi elementi, con queste valutazioni, il Partito Democratico ha votato in maniera convinta il rendiconto, appunto, nella convinzione che siamo sulla linea giusta di messa in sicurezza dei conti della Regione Toscana. Come è noto, ogni anno il Consiglio regionale approva il rendiconto e lo fa dopo il giudizio di parificazione presso la Corte dei Conti. Quindi, anche quest'anno, a seguito del giudizio di parifica condotto presso la Corte dei Conti, è stato approvato il rendiconto e si è reso necessario procedere ad un assestamento del bilancio di previsione per il 2024. Si tratta quindi di un'operazione di carattere tecnico, ma è estremamente importante perché ha lo scopo di trasformare in dati effettivi quei dati che erano stati inseriti nel bilancio di previsione soltanto in via presunta. Soprattutto sono due gli ambiti nei quali si è intervenuto attraverso la manovra di assestamento. Da una parte abbiamo il problema del debito autorizzato e non contratto, che ha presentato un risultato inferiore rispetto a quello che era stato presunto. Quindi, dai 700 milioni che erano stati appostati in via presunta, si è passato a una rideterminazione più puntuale all'incirca di 632 milioni. Così come l'altro aspetto sul quale è inciso la manovra di assestamento è quello dell'avanzo vincolato, che ha cambiato notevolmente i dati inseriti nel bilancio previsionale per oltre 250 milioni. Si tratta quindi di un intervento di carattere tecnico conseguenziale all'approvazione del rendiconto rispetto al quale il Consiglio regionale si è espresso con voto favorevole a maggioranza. In politica si può dire tutto il contrario di tutto anche di fronte ai numeri a volte, ma di fronte alla Corte dei Conti diventa veramente risibile. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1 miliardo e 200 milioni che verrà poi risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario, è uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messa in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario. E' già la seconda volta che la Regione Toscana non fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica, ebbene siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. Le valutazioni sono critiche ma per il semplice fatto che ormai dall'inizio di questa consigliatura non vediamo un cambio di passo, anzi vediamo purtroppo un costante ricorso all'indebitamento, un indebitamento che poi non si traduce in investimenti visibili e concreti o quantomeno in una semplificazione, in un'accelerazione in quella che è la quotidianità di ciò che dovrebbe essere realizzato. È una regione che continua a ricorrere ai muti, è una regione che non ha ancora ben chiaro cosa significa programmare, cosa significa anche e soprattutto ad esempio in sanità riuscire a dare un'organicità rispetto a quelle che sono le risorse a disposizione e la pianificazione sul loro impiego. È una regione che oggi stenta a decollare dal punto di vista del PNRR che pur rappresenta una sfida importante e anche dell'utilizzo dei fondi, così come l'utilizzo dei fondi europei, dei fondi di sviluppo e coesione, perché è una regione che non riesce davvero a veicolare con semplicità e velocità anche il potenziale di liquidità che avrebbe a disposizione in questo momento proprio per effetto di questo importante traino. Quindi sostanzialmente abbiamo anni in cui non si sono fatte scelte coraggiose. L'ultima che aggiungo riguarda le società partecipate. Noi abbiamo ormai da tempo rinunciato ad essere attori importanti come regione toscana in settori strategici. Penso a tutto il sistema aeroportuale, a Toscana Aeroporti dove abbiamo una partecipazione irrisoria. Oggi il settore aeroportuale è un settore strategico e che fa utili. Noi ci ostiniamo ancora a voler tenere partecipazioni in situazioni critiche. L'80% della nostra liquidità è allocata in società partecipate che non hanno oggi più una redditività. E quindi tutto questo determina una situazione di squilibrio che impedisce poi a questa regione di correggere il proprio disavanzo. Perché questa è la questione. Se non riusciamo a correggere il nostro disavanzo in prospettiva noi non avremo un sistema più sostenibile. È un giudizio positivo. La tenuta dei conti della regione toscana è un elemento importante. Non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni. Però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista di vedute se pensiamo alla questione che riguarda le tasse. E non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente rendi conto di gestione e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la regione toscana. Diciamo che quello che è stato detto dalla Corte dei Conti e da persone sicuramente che sanno leggere i numeri è emerso che ci sono delle incongruenze. Ora poi che il nostro Presidente della Regione e la maggioranza la faccia passare come dei bigliettini di auguri mi sembra veramente eccessivo. Non sono le cose con cui io mi gestisco meglio però quello che posso capire e che posso leggere è che comunque la Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più non tanto come dividendi ma dando delle impronte perché comunque siamo soci importanti.